Nella notte tra domenica e lunedì i ladri hanno preso di mira alcune case a Villa Donia. Nel cuore della notte e utilizzando la tecnica del forellino, i malviventi hanno aperto una finestra di un'abitazione di Viale Marconi. Qui, senza disturbare il sonno dei proprietari, sono andati alla ricerca di oggetti preziosi, interessandosi di un portagioie e dei gioielli contenuti all'interno. Solo al mattino, al risveglio, gli abitanti si sono accorti dell'accaduto, trovando la finestra aperta, gli oggetti rovistati e la borsa abbandonata sul retro dell'abitazione. Un episodio simile si è registrato anche a Onia, in una casa di via Betoncelli. Sempre con la tecnica del forellino e incuranti dei proprietari che stavano dormendo all'interno, sono stati portati via alcuni gioielli. Al mattino è stata trovata, in una zona in ombra del giardino del vicino, una borsetta appena rubata. I ladri si sono interessati anche di una casa decente, ma sono stati messi probabilmente in fuga dai cani. Nel giardino di un'abitazione in via San Lorenzo hanno aperto un'automobile, portando via poco nulla. Sabato sera, tra le 18 e le 22, a Piario, i malviventi hanno dimostrato di essere capaci di arrampicarsi con grande agilità. Salendo lungo una grondaia, hanno raggiunto una finestra lasciata socchiusa al terzo piano di un condominio. Una volta dentro all'appartamento hanno fatto sparire i gioielli che hanno trovato. Con il ciclico ripresentarsi del fenomeno dei furti in appartamento, l'invito è sempre quello di segnalare con la massima tempestività ai carabinieri o alle forze dell'ordine ogni episodio sospetto.